E' arrivata una nuova sentenza, stavolta a sfavore del procuratore di Terni Alberto Liguori. Il Tar del Lazio boccia il ricorso contro la non conferma, ma sono attesi nuovi capitoli. Anche a Terni è arrivata la bufera detta Kiran. Nella notte oltre 30 gli interventi dei Vigili del Fuoco e nel weekend atteso un ulteriore peggioramento del meteo. Lucarelli resta in silenzio, ma parla Capo Zucca che spiega, è concentrato sulla partita. Domani per la ternana sfida verità contro il Venezia che punta alla Serie A. Ben trovati a una nuova edizione del notiziario di AM Terni Television. Prosegue quindi il ping pong di sentenze che vede protagonista il procuratore di Terni Alberto Liguori. L'ultima in ordine cronologico, quella del Tar del Lazio, che ha bocciato il suo ricorso contro la non conferma. Facciamo il punto. Nuovo capitolo della vicenda che vede protagonista il procuratore Capo di Terni Alberto Liguori. Il magistrato lo scorso aprile si era visto accogliere il ricorso presentato contro il no del Tar del Lazio alla richiesta di sospensiva della delibera, con cui nel gennaio del 2023 il Consiglio Superiore della Magistratura aveva deciso di non confermarlo alla guida della Procura di Terni. Da quel momento il CSM aveva deciso di revocare ogni Costituzione in giudizio e l'accoglimento del ricorso da parte del Consiglio di Stato, ad aprile, aveva rappresentato un importante punto in favore di Liguori. Il nuovo capitolo mette a disposizione una sentenza in più, ed è quella nel merito del Tar del Lazio, che in sintesi afferma nuovamente che la non conferma di Liguori nel ruolo di procuratore di Terni, decisa dal CSM, era corretta. A questo punto la domanda che sorge spontanea è cosa accadrà sul piano operativo? Tra gli scenari ipodizzabili c'è pure il ritorno di Barbara Mazzullo alla guida della Procura di Terni, ma in qualità di sostituto anziano. Nel frattempo è prevedibile una nuova impugnazione, d'urgenze nel merito, anche di quest'ultima sentenza di fronte al Consiglio di Stato. È in gravi condizioni la ragazza che nella notte tra giovedì e venerdì è precipitata dalla tromba delle scale. È accaduta in un condominio di Via della Fiera nel quartiere di Campitello. Una 27enne ternana, residente con la propria famiglia in un appartamento dell'ottavo piano, è accidentalmente caduta dalle scale. Immediati i soccorsi dei familiari, di altri residenti e del 118, i cui operatori hanno subito trasportato la giovane all'ospedale Santa Maria in codice rosso. La 27enne è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico, ma le sue condizioni restano gravi. La bufera detta Chiran sta soffiando con raffiche violente anche su Terni da ieri sera e sembra che anche nel prossimo fine settimana si attenda un peggioramento delle condizioni meteo. Facciamo il punto. Il maltempo che è imperversa negli ultimi giorni non sembra dare tregua né ai cittadini né alle forze dell'ordine. Alla pioggia si è aggiunto la notte scorsa un vento fortissimo che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco su più fronti, tra cartelli stradali sradicati, alberi caduti e zone allagate, tanto che è stato necessario chiamare i rinforzi. È l'anticiclone Chiran che soffia dalla Francia a 200 km orari e le previsioni annunciano ulteriori peggioramenti nel weekend. I pompieri sono dovuti intervenire anche nel centro cittadino, lungo il corso dove i cartelli metallici usati per l'esposizione delle locandine sono volati via e le aiuole dei negozi, anche se pesanti, sono state spostate dalle forti raffiche di vento. In più è stato necessario mettere in sicurezza anche le facciate dei palazzi di Corso Tacito, dove le travi di ferro, che servono per le luminarie di Natale, hanno rischiato di essere smantellate. In tutto, la notte scorsa ci sono stati 30 interventi, dalle 20 di giovedì sera alle 7 di stamattina. E come testimoniano le immagini, il lavoro da fare è ancora tanto. Una bufera che fa paura a tutta l'Umbria. È stato arrestato un minorenne che aveva rapinato con l'aiuto di due maggiorenni un altro ragazzo a Corso Vecchio. I fatti risalgono al 26 agosto, quando un giovane indiano di 20 anni venne accerchiato da tre ragazzi che sotto minaccia lo costrinsero a consegnare 20 euro e tentarono anche di obbligarla a ritirare ulteriori soldi al Bancomat. Le indagini delle forze dell'ordine avevano comunque portato all'identificazione di tutti i responsabili. Per i due maggiorenni è scattato l'obbligo di dimora a Terni, con divieto di uscire di casa dalle 20 alle 7, mentre per il minore il GIP ha emesso la misura cautelare del collocamento in comunità. Sarebbero oltre 60 gli articoli non a norma sequestrati dalla polizia durante la tradizionale fiera dei morti presso Pian di Massiano a Perugia. I due ambulanti che le vendevano adesso rischiano molte salate, oltre 20.000 euro. Facciamo il punto nel servizio. 18 rasoi, 24 epilatori elettrici per il viso, 9 depilatori e 11 mini aspirapolveri per la polizia della casa e dell'auto. È il materiale che i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Perugia e la Polizia Locale hanno sequestrato durante la tradizionale fiera dei morti di Pian di Massiano, in quanto non in regola con le norme di costruzione e vendita. Nel corso dei controlli è risultato che le confezioni degli oggetti sequestrati erano sprovviste di indicazioni in lingua italiana, dei dati relativi al fabbricante e o all'importatore e delle caratteristiche merceologiche del prodotto in vendita. Inoltre, riportavano il marchio CE non conforme agli standard previsti. Due gli esercenti, provenienti da Roma e da Genova, che riceveranno una sanzione amministrativa fino a un massimo di 26 mila euro ciascuno. L'operazione è stata avviata nei primi giorni di svolgimento della tradizionale fiera e rientra nel protocollo siglato tra Agenzia, Dogane, Monopoli e Comune per contrastare il fenomeno della contraffazione che, oltre ad arrecare un grave danno economico all'economia del Paese, può risultare pericoloso per la salute dei consumatori. La Regione Umbria ha approvato, su proposta dell'assessore Paola Agabiti, la richiesta di 210 milioni di fondi al governo per lo sviluppo del territorio per il periodo 2021-2027, maggiori particolari nel prossimo servizio. 210 milioni di euro a disposizione dell'Umbria, di cui 61 da utilizzare come finanziamento dei programmi comunitari 149 per lo sviluppo della Regione. È questa la cifra approvata dalla Giunta regionale che l'Umbria approverà a chiedere al governo su proposta dell'assessore Paola Agabiti per lo sviluppo e la coesione 2021-2027. In particolare, sul territorio ternano, gli interventi previsti riguardano il piano strategico di rilancio del polo chimico, la riqualificazione del polo di Pentima e quella dell'immobile regionale di Via Saffi, il completamento della variante di Amelia sulla strada regionale 205, la rotatoria per l'accesso al nuovo ospedale di Narnia-Amelia, la realizzazione della strada di scorrimento veloce e parallela all'autostrada di Orvieto e la realizzazione della bretella Staino-Prisciano, interventi per cui dovrebbero essere stanziati complessivamente 68,2 milioni di euro. Per quanto riguarda il Perugino, invece, verranno chiesti fondi per il completamento del teatro Turreno, l'intervento di valorizzazione dell'auditorium dell'ex convento di San Domenico a Foligno e del ponte interrato sanguinario di Spoleto, il potenziamento delle infrastrutture dell'aeroporto di Assisi, dell'ospedale e del centro studi di città di Castello e la riqualificazione del centrofiere Abbazia Umbra. Per tutta l'Umbria sarebbero previsti i finanziamenti per i percorsi naturalistici, per le energie rinnovabili, per i beni culturali e per i treni. La presidente della regione, Donatella Tesei, ha affermato che, con questo atto che contiene scelte politiche che l'Umbria attendeva da tempo, andiamo ad individuare una serie di variegati e importanti interventi per il territorio che, insieme all'utilizzo delle ingenti risorse della nuova programmazione europea, ci consentono di fare un ulteriore passo verso l'Umbria di domani. Parliamo adesso di sanità pubblica. AM Terni Television è andata a chiedere ai cittadini ternani cosa ne pensa, con particolare riferimento alla annosa questione delle liste d'attesa. E a tutti loro ha risposto il direttore generale del Santa Maria di Terni, Andrea Casciari, che ieri sera è stato ospite della nostra trasmissione Punto di Vista. Vediamo. Ho preso l'appuntamento per fare l'ecografia, la devo fare il 4 di gennaio. Secondo lei, se uno si muore che si ammala, ho dena per forza il pagamento. Per fare un ecodopler, perché ho una placca, diciamo, no? Se non ci sono prenotazioni, una volta, posso venire, ci riprovi. Ma vengo tutti i giorni in farmacia oppure dicendo, ma signore, non ci sono prenotazioni, ma la ricetta scade, non scade. E quindi ho dovuto rifare la ricetta, ma comunque per farla breve sono da pagamento. Io ho atteso un anno e mezzo per fare tantissimi esami. In questo periodo, ora, mi hanno detto di sbrigarmi a prendere gli appuntamenti che devo prendere, perché non si capisce come mai si siano aperte le liste d'attesa. Ci sarà qualche motivo per il quale bisogna aprire le liste d'attesa perché conviene farlo in questo momento a livello economico, non lo so, politico. Sono vent'anni che va male la sanità in Umbria. Avendoci lavorato non ho visto mai un miglioramento. Erano meno, però sono sempre state le liste d'attesa e sono sempre state lunghe. Le liste d'attesa sono di competenza, le liste d'attesa ambulatoriali sono di competenza dell'ASL e le aziende ospedaliere partecipano all'abbattimento. Posso dire che le liste d'attesa erano un problema annoso che esiste. È un problema che sta riguardando tutta l'Italia perché lo Stato, il Governo sta finanziando ulteriori interventi per l'abbattimento delle liste d'attesa. Nel periodo che ci troviamo, ci siamo trovati in cui mi sono trovato quest'anno nella direzione, abbiamo dovuto affrontare l'enorme quantità delle liste d'attesa accantonate per il periodo pre-covid, il periodo covid. Quindi è complesso garantire il recupero delle liste e nello stesso tempo garantire le liste d'attesa che si stanno creando quotidianamente, che si stanno le richieste che si stanno quotidianamente. Comunque, il processo è stato portato avanti sotto il coordinamento della regione fra tutte le aziende sta comunque dando risultati. L'azienda ospedaliera quando sono arrivato avevamo 13.000 prestazioni chirurgiche pre-2021 anni precedenti. Quindi stiamo parlando di una quantità importante. Oggi siamo a meno di 4.000 le stiamo recuperando tutte entro la fine dell'anno contiamo di recuperare tutte o quasi tutte siamo lì forse arriveremo al massimo gennaio tutte le prestazioni precedenti. Tra gli interventi dell'USL Umbria 2 finanziati con i fondi del PNRR portati avanti nel territorio di Orvieto figurano anche l'ospedale la casa di comunità e l'ospedale di comunità vediamoli nel dettaglio nel prossimo servizio. Orvieto spinge l'acceleratore progetti opere strutture sanitarie vanno avanti a ritmo serrato l'ospedale di Orvieto casa della comunità l'ospedale di comunità il centro di salute mentale sono alcuni infatti degli interventi finanziati coi fondi del PNRR in particolare gli interventi riguardano il miglioramento sismico Santa Maria della Stella la realizzazione della casa di comunità e dell'ospedale di comunità l'ampliamento del pronto soccorso con l'attivazione di sei nuovi posti letto di semi intensiva e un posto letto di intensiva per arrivare alla nuova sede del centro salute mentale situato in via Cardinali Cerretti i progetti dell'asle Umbria 2 sono finanziati coi fondi provenienti dal PNRR aventi l'obiettivo di consentire alla rete ospedaliera e territoriale un enorme salto di qualità nell'attività di cura e assistenza alla popolazione l'azienda sanitaria ha provveduto ad adeguare gli importi per la realizzazione dei due progetti dell'adeguamento sismico dell'ospedale Santa Maria della Stella e del pronto soccorso portando a circa 3,7 milioni con un incremento di 940 mila euro e l'ampliamento del pronto soccorso a circa 1,2 milioni più 533 mila euro per l'attivazione dei posti letto di semi intensiva e intensiva riguardo alla casa di comunità e l'ospedale di comunità in Piazza Duomo che riqualificherà immobili in disuso dell'ex ospedale in un'area pregevole del centro storico cittadino l'intervento dei lavori per la realizzazione delle due opere è di circa 3,3 milioni di euro per la casa di comunità e di circa 4,5 milioni di euro per l'ospedale di comunità il trasferimento invece della nuova sede del centro di salute mentale è in programma entro fine novembre dopo il sold out registrato la settimana scorsa per il concerto d'apertura prosegue il programma dell'associazione Araba Fenice a Guardea il prossimo concerto prevede musica di Brahms Bazzini White e Astor Piazzolla che saranno eseguite al pianoforte da Sofia Proietti e al violino da Domenico Masiello il concerto si terrà il 4 novembre nella sala consigliare di Guardea titolo del concerto promosso dall'Araba Fenice è Classic Hall si conclude così questa edizione del notiziario di AM Eterni Television grazie per essere stati con noi arrivederci alle prossime edizioni a presto a presto a presto a presto